Abbiamo istituito questo ambulatorio, ambulatorio multispecialistico, dove il paziente arriva e trova alla visita sia l'ortopedico che l'infettivologo. Con il CTO di Torino siamo i due centri di riferimento regionale e al nostro centro arrivano anche pazienti provenienti da reparti di infettivologia di altre regioni o da reparti ortopedici. Abbiamo cercato di dare una risposta, una risposta che coinvolga tutte le figure che sono essenziali in questo difficile percorso di diagnosi e cura dell'infezione osteoarticolare. Quindi in primis la presenza di un ortopedico che sappia trattare l'osso infetto è una chirurgia demolitiva e quindi differente da quella che è normalmente perseguita da un ortopedico che mette la protesi, quindi un protesizzatore. Rispetto ad altri centri quello che un po' ci contraddistingue è la possibilità di andare ad operare il distacco del biofilm ricorrendo ad un sistema di tipo fisico, cioè ricorrendo all'uso degli ultrasuoni. E questo è una tecnica che appunto deve essere implementata sulla quale bisogna lavorarci proprio perché non basta fare una semplice sonicazione ma poi a questa segue tutto un procedimento di concentrazione dei campioni, di diluizioni dei nostri campioni, di colture quantizzate che ci portano appunto al nostro risultato finale. Cioè non va sempre bene che cresca qualcosa ma bisogna dire che se quel qualcosa che è cresciuto ha un significato, può avere un significato clinico rispetto al materiale di partenza dal punto da cui siamo partiti. La bassa mortalità che abbiamo introspedaliera è dovuta anche al grande lavoro che gli infettivologi fanno e allo studio del paziente. I pazienti molto critici non possono sopportare molti interventi di ricostruttiva e quindi si sceglie una strada diversa, forse anche l'amputazione dell'arto. Ciò permette di mantenere in vita malati che altrimenti non potrebbero sopportare l'intervento. In alcuni casi siamo chiamati a confermare quale è ziologia della problematica ossea, la presenza di un'infezione e quindi da questa visita ne scaturisce spesso dei prelieri, ne scaturiscono spesso dei prelieri sia di liquidi biologici che di tessuti che vengono inviati al laboratorio che negli anni si è specializzato a trattare questi tessuti o nel caso in cui venisse rimossa la protesi in sala operatoria nel trattare anche il materiale protesico. Tutto questo è possibile in un ospedale sì periferico ma plurispecialistico e può essere un hub per questa patologia perché l'afflusso è notevole e le cure che si possono dare più dalla rianimazione alla subintensiva e a tutti i servizi correlati che ci devono essere se ne sono di altissima specializzazione. Facciamo circa 700 interventi l'anno dedicati a malati di questo tipo e sono in continua crescita.